Vi auguro una buona giornata. Il messaggio di oggi è 7 di fuoco. Difendi le tue convinzioni e le tue decisioni. Non cedere. Scegli le tue battaglie in modo saggio. Non cedere e non mollare. Potresti dover difendere le tue convinzioni o le tue decisioni, ma ce la farai. E' importante affermare se stessi e cercare di ottenere quello che vuoi. Nelle avversità c'è una forza da battere e tu hai tutto quel che serve per farlo. Difendi ciò in cui credi. Stai allerta e non abbassare la guardia solo perché sei dalla parte della ragione. C'è chi potrebbe invidiare quello che hai. Altri significati di questa carta sono scegliere le proprie battaglie con saggezza, imparare a dire di no, sicurezza di sé, coraggio, affronterai chi sta al potere e perseveranza. Questo è il messaggio di oggi per augurarvi una buona giornata. mille 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 Grazie a tutti.